Nel comune di Santa Maria del Cedro è entrata in funzione ufficialmente una nuova struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti. Ne parliamo con l'assessore esterno all'ambiente del comune di Santa Maria del Cedro, Stefano Adduci. Il nuovo centro di raccolta, appena ultimato da pochi giorni in esercizio, è un'ecopiazzola, un centro di raccolta, come lo chiama la norma, è un'area a supporto della raccolta differenziata. In sostanza non si tratta di nient'altro di avere dei cassoni, dei container che poi vanno su dei camion scarrabili, nei quali vengono stoccati i rifiuti, suddivisi per tipologia di rifiuti, quindi abbiamo il cassone dell'indifferenziato, della plastica, del cartone e dell'umido. Una volta che i cassoni sono chiusi, se si tratta di spazzatura, quindi l'indifferenziato verrà converito nella discarica, mentre per quanto riguarda le categorie di rifiuti differenziati, quindi l'umido va in compostaggio e gli altri vanno agli impianti di gestione per il riuso. I camion che fanno la raccolta porta a porta, man mano che sono pieni, insomma vengono qui a scaricare, i cassoni sono chiusi, sono coperti, vengono stoccati per un periodo che è la norma fissa in funzione della tipologia di rifiuti e poi proseguono il loro iter di gestione del rifiuto. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale il Civico Consesso ha discusso dell'emergenza rifiuti sul territorio e dall'opposizione è stata fatta notare l'emergenza che ancora si registra nella cosiddetta zona mare del comune di Santa Maria del Cedro. Questa la posizione da parte dell'amministrazione comunale. Quest'anno ci siamo trovati, diciamo, subito dopo le elezioni, nell'imminenza della stagione estiva, non c'era la possibilità, i tempi per organizzare un servizio diversamente se non quello della differenziata da fare in cassonetti stradali. Quindi le abbiamo fatti mettere a posto ed abbiamo messo delle indicazioni sulla tipologia di rifiuto che deve essere conferito, quindi abbiamo la plastica, il cartone e l'indifferenziato. Il porta a porta nella zona mare non lo riusciamo a fare perché già fare formazione al turista è difficile, da indicargli i tempi e le modalità di conferimento. Per quest'anno faremo la differenziata nei cassonetti stradali. L'ideale sarà creare dei centri di raccolta zonali, in modo tale da poter avere un conferimento diviso per categorie di rifiuti.